Camminare Peloritani e Torre Bianca è un connubio ormai consolidato, in cosa consisterà la vostra partecipazione domenica alla 10 km di Capo Peloro? Sì, dopo le precedenti esperienze abbiamo mai creato un partenariato con Torre Bianca, quindi in tutte le manifestazioni di Torre Bianca noi saremo presenti con il trekking urbano e non solo, anche con il trekking in montagna. Domenica il nostro compito sarà quello di portare i ragazzi o le persone che vorranno partecipare al trekking urbano in un semplice trekking, una passeggiatina vera e propria attorno al Lago Grande dove vi è anche l'oasi naturalistica, quindi ammireremo anche se siamo fortunati a dei volatili che arrivano qui in migrazione e poi ci sposteremo nella spiaggia che guarda Torre Faro, quindi un'altra bellezza caratteristica della città di Messina lo Stretto e poi chiuderemo un anello all'Orcinius Club, un 10 km passeggiando.